Barbara Cantini con la sua Mortina al Festival del Libro di Bibbiena. Barbara, una serie fortunatissima, siamo arrivati al sesto libro, Mortina tradotta in 32 lingue, quindi arrivata in tutto il mondo. Oggi al Festival del Libro di Bibbiena, cosa si prova anche ad arrivare in un festival, in una vallata molto vicina a dove abiti tu? Sono molto felice di essere stata invitata qui in Casentino, perché è stata anche un'occasione per vedere un posto splendido che ancora, nonostante la vicinanza, non avevo ancora avuto modo di visitare. Sono orgogliosa anche di poter portare la mia serie sul territorio della Toscana, oltre che nel mondo, perché comunque rimanere vicini al territorio, conoscere anche i bambini che vivono vicino in Toscana, vicino a me, è sempre molto bello, una soddisfazione notevole, insomma. Dalla Toscana fino al Brasile o all'Inghilterra, insomma, tutti i bambini, insomma, è bello. Sì, ha girato veramente tutto il mondo. Ecco, cosa ti aspetti da questo personaggio nel futuro e se ci sono progetti che non credo che tu ci possa svelare, ma che tu ci possa far capire per il futuro? No, ora, progetti da poter svelare? No, non posso, però, insomma, sicuramente Mortina ha avuto un percorso splendido che nemmeno io avrei mai potuto immaginare, insomma, siamo passati anche da vederla trasformata in musical, insomma, in uno spettacolo teatrale che è stato ottimamente reso dalla Compagnia delle Formiche. Per quanto riguarda i miei progetti su Mortina, sicuramente la porta non è chiusa e ancora c'è molto da raccontare, insomma, di questo mondo che così ho creato anche via via, insomma, che le storie si sono sviluppate, insomma. Ecco, tu ci hai raccontato prima che sognavi fin da piccola questa tua professione, lavoro, non so come la interpreti. Cosa vorresti dire anche ai bambini e ai ragazzi che in questo momento stanno anche costruendo la propria personalità e cercano una strada nel futuro? Cosa dobbiamo vedere, guardare, quando si scelgono appunto le nostre strade? Io ho sinceramente proprio seguito quella che era la mia luce interiore, la voce interiore che mi ha sempre fatto sentire nel disegno la mia dimensione, insomma. Il mio posto nel mondo era quello del disegno, delle storie, dei libri. Ho sempre amato anche stare in camera anche da sola, proprio immergermi nelle figure. E sono felice di aver seguito quella che era proprio un indole che si è manifestata proprio fin dall'asilo, proprio fin da piccola. E bisogna ascoltarsi sempre. Un bel messaggio. Direi che siamo felici anche noi che tu abbia ascoltato quella luce interiore perché oggi possiamo leggere Mortina che è un libro straordinario che ci fa sentire sempre al posto giusto, anche se non siamo al posto giusto e ci fa sentire davvero nel mondo con un'altra dimensione. Grazie Barbara. Grazie a voi, insomma, anche dell'invito a questo bellissimo festival. Grazie Rossana.